E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 e oggi siamo nella Minecraft SCP Ovviamente nello scorso episodio avevo visto l'SP del corridoio infinito, cioè l'SCP 398 E... da quando l'abbiamo visto, questa zona della casa inizia un po' a laggare Poi ragazzi devo trovare un modo per portarmelo a casa, perché non c'è ancora questo SCP Allora, oggi voglio vedere con voi SCP-018, quindi... Ok, adesso possiamo andare a vedere l'SCP-018 Allora, la cella di oggi si trova da una parte Allora, le celle ragazzi sono tutte da queste parti, cioè... Ora, non è che le celle vanno in basse alla mappa, perché da quella parte non c'è la mappa Cioè, fuori da mappa, sto cadendo nel buco della cella di questo SCP Che era la palla di cose taglienti, la Ball of Sharps Che ve la devo far vedere prima o poi nel laboratorio, non so se l'ho fatta già vedere Ma non credo Comunque, la cella di oggi è da queste parti Dovrebbe essere tipo... Ah, eccolo qui, eccolo là E adesso... Aia Ok, eccoci qua Allora, mettiamo una torcia e... Abbiamo ragazzi già visto 18 SCP... 19 SCP Nel fondo c'è acqua, quindi ci buttiamo Ui Wiii Pum Ok, allora, una cosa che non capisco è che... Qua, questa qua era tutta terra Ecco La cella, che questa qua è l'erba che si spawna attorno alla cella Diventa erba normale, non capisco il perché Comunque, apriamo la porta E ovviamente SCP-018 Di classe Euclid Io lo conosco, nell'immagine è una palla Vedete? Allora, in pratica di che si tratta? Si tratta di una pallina Una palla... Di questa... Questa palla Che in pratica Rimbalza il doppio In che senso? Nel senso che se noi la prendiamo E la lanciamo Questa qua Cioè, se noi la facciamo cadere Da un metro di altezza Quest'ultima rimbalzerà di due metri Ok? Poi gli verrà Dopo da due metri Diverrà cinque Dopo due metri Diverrà quattro metri Poi otto metri Poi Sedici metri E così via Ad arrivare alla velocità di un proiettile Quindi, ragazzi, è molto pericoloso Ma allo stesso tempo è normale Basta non farlo rimbalzare Infatti ricordo che era... Questa cella ricorda le bambine Però non è assolutamente quella Perché vedo un container Molto di alto contenimento Intanto sta porta Apre quella porta Comunque Allora, questo qua è il container Un grosso container Che se apriamo Ah, c'è la palla Eccola Ah, ne ho viste due Allora Ok, eccoci qua Ci sono due palle C'è questo che sembra un uovo di spawn E questo che è una palla Intanto qua chiudiamo Per evitare di fare cavolate Devo riuscire a chiuderla Però io devo stare all'interno Ok Ok, abbiamo chiuso la cella Allora Qua abbiamo due palle Non quelle che abbiamo noi maschi Due palline Diciamo così Due... Cioè, scusate per il termine Che era cringe Allora La prima si chiama SCP-018 Che non fa assolutamente nulla La posso lanciare Se la butto che... No Non fa niente È inutile Cioè Mi sa che è decorativa Ah, questa la prendiamo Mi sa che questo è l'SCP Poi qua ho notato questo spawn Che è... Si chiama SCP-018 Superball Mi sa ragazzi Che questo uovo Spawna Una palla Una pallina Mmm... Ora Allora Allora Intanto faccio una cosa Voglio vedere questa pallina Prima di sperimentarla Perché sarà molto forte Ve lo dico io Potrebbe essere molto forte Quindi per non... Non so salta Fam salta Oh, è che palla Allora Ehm... Adesso la spawno qua Siete pronti? 3, 2, 1 Ok, l'ho spawnata Eccola Ehm... Ai, ai Oh, mi... Mi tira Raga, sento E' sta pallina Raga, è la pallina Mi sta tirando Frecciate della madonna Aia Raga, sta pallina Aia, aia L'ho sottovalutata molto Io, raga Pensavo che Se... che... E niente, sto amore Aiuto Raga Mi ha terminato Questa qua è terminator Sta pallina Allora Adesso Che abbiamo visto cosa fa Che è molto forte Cioè Tira le frecce Possiamo entrare con tranquillità Io pensavo che Tipo si lanciasse con Forza Non l'ho mai testata Sta cosa Quindi Ho paura ad aprire Cioè Guardate Queste sono le frecce Le ha fatte lei La... la pallina Allora Adesso apriamo Ed eccola Ciao Fa il suono dello slime È però È molto forte Guarda quanto Guarda È velocissima Cioè Se noi dovessi... Ma è sparita Aia Raga Pense... La immaginavo Molto più forte Non so cos'altro Possiamo O a ucciderla O a farci uccidere Noi Facciamoci uccidere Mi sa che appare Lo stesso messaggio Del tizio Se io mi metto qua Però lei resta... Oh guardate Corsa sul mio cadavere Freccia Vabbè L'avevo L'avrei un po' L'avrei un... Allora L'avrei un po' Immaginato Che mi dicesse Che la freccia Mi avrebbe trafitto Allora ragazzi Adesso Dato che abbiamo visto Cosa è questo SCP Cosa fa Direi di portarci Alla laboratorio E di andare Alla laboratorio Dato che Non so cos'altro Possiamo fare Quindi ci vediamo Alla laboratorio Ok ragazzi Allora Eccoci qua Nel mitico Anzi epico Laboratorio Gigante E gli SCP E qua abbiamo Super palla Molto bella Che Stava Saltando Per un attimo Assaltato Cioè ora sta fermo Immobile Qua c'è anche L'oggetto Poi qua ci sono Gli ultimi Tutti gli ultimi C'è L'SCP di Among Us Quando l'impostore Sass Poi c'è Il videogioco Mutevole Bello questo Peccato che il video È venuto Muto Peccato Poi Keteru Yamako Questa qua La candela Il Bush Che Non mi pare Aggressivo Non so perché Infine La SWAT 912 Poi Qua ci avevamo Tutti gli altri E adesso ragazzi Vi faccio vedere L'SCP 162 Cioè la palla Di cose taglienti Intanto qua ci sono Altri SWAT C'è ancora Sì c'è ancora Eccola È ancora incazzata Con l'IKEA Lo so che odi l'IKEA L'ho capito che Qua c'è il centipede Il La statua I collari Il Wendigo Il portiere Il living Lego Poi qua c'è Caino Ciao Caino I ranni Di coso Il buco Il virus Metallico Iris E poi ci sono Cioè abbiamo Troppi ragazzi SCP Cioè Calcolando che devo aggiungere Anche Che devo aggiornare Il libro Degli SCP Calcolando Anche questo Ok qua abbiamo Gli ultimi SCP Anche il Cactus Poi ragazzi Qua ci sono anche C'è Shy Guy Che qua gli ho messo Questa sicurezza Che ragazzi Shy Guy È normale Cioè questo è Shy Guy Quello del corridoio Mi sa che era Un'allucinazione Poi comunque Qua ho scritto Ecco 682 Stai un po' zitto Qua ho scritto Qua ho scritto Gli ultimi SCP Che avevo visto E Qua c'è la palla Di cose taglienti Il 162 Che è uno dei miei SCP Preferiti Sì Eccolo qua E Lo so Non so come l'ho Portato L'ho messo L'ho provata a ricostruire Molto grande Cioè Vista da vicino Purtroppo la devo mettere vicino Perché La palla Eccola Vedete Cioè guardate quanto è grossa Cioè stiamo Il più lontano Possibile Si sta Chiudi 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 Il prototipo è scappato di nuovo Quindi ora lo dovrò rinnovo Ricontenere per la migliore Vabbè comunque ragazzi Da me dietro 16 è tutto Ci vediamo la prossima volta Ciao